Desidero innanzitutto ringraziare la dottoressa Oriana Maroni per l'invito che mi ha fatto per questa presentazione, certamente tra le più puntuali che io abbia sentito, è una presentazione da me non meritata, ma che è riuscita effettivamente a percorrere tutti i temi che sento più propri e temi sui quali più volte ho ricercato, ho meditato e sono anche intervenuto con la parola e con gli scritti. Ma vi dico anche la gioia di essere qui a Rimini, dove ogni tanto ritorno, so che tornerò di nuovo, mi sembra, non so più se fine febbraio, i primi di marzo, per i quaresimali, come già venni forse lo scorso anno, due anni fa, e poi a Rimini sono venuto tante volte, ma tantissime volte, forse trent'anni fa, tra le prime conferenze credo di essere venuto più volte a farle a Rimini, ma dico trenta, ma la mia età quando si dice trenta, voi sapete, si dovrebbero aggiungerne altri dieci, e forse sono quaranta. Il cammino che voi percorrete sul tema del male è un cammino sul quale tutti gli uomini vengono a trovarsi. Non è possibile non riconoscere la presenza del male, perché del male ogni uomo, ogni donna, in ogni tempo e cultura fa l'esperienza. E se è vero che la vita dell'uomo è una lotta contro il male, è altrettanto vero che noi il male vorremmo rimuoverlo. E dobbiamo confessare che forse la nostra cultura dominante riesce in parte a rimuoverlo, a non tenerlo presente all'orizzonte della vita, a negare il male o a fingere di non vedere il male. Eppure il male prima o poi ci appare con tutta la sua dynamis, la sua forza, la sua energia. E la forza del male è sempre mortifera, è sempre una presenza apparentata con la morte. In realtà ogni volta che voi dite male, voi parlate del male, voi finite per pensare, per dire qualcosa che ha a che fare con la morte. Il sogno dell'uomo è proprio quello di vincere il male, ma anche di non vederlo, di non considerarlo, perché il male è sempre nello stesso tempo sofferenza, dolore, morte, e poi il male quando si presenta alla persona più semplice e vorrei dire senza disprezzo più rozza, come alla persona che ha fatto dei cammini intellettuali raffinati, ma il male provoca sempre la stessa domanda. Le domande che la dottoressa Baroni ha posto a tutti. Perché il male? Da dove il male? Che senso ha il male? È possibile vincerlo? Io sono sempre stato impressionato, fin da quando ero giovane, da una lettura nella vita di Buddha. Voi conoscete certamente la storia di Gautama, il Buddha, che è altamente istruttiva per noi. Sta scritto nella sua biografia che il padre di Buddha era un re e temendo che per avventura suo figlio avesse a vedere qualcosa di male che potesse torbargli l'anima, gli ordinò di dimorare sempre all'interno del palazzo regale e di astenersi dal viaggiare, dal vagare fuori del palazzo. E così Gautama crebbe, fu educato in quel recinto felice, godendo della bellezza, dell'arte, della pace familiare, della ricchezza di una famiglia regale. Ma a un certo punto, dice la storia del Buddha, che sentì quel luogo come una prigione. E allora un giorno riuscì a scappare, ad andare fuori, fuori dal recinto, fuori dalle mura di quel parco e di quel palazzo. e come cominciò a viaggiare, innanzitutto incontrò un vecchio decrepito. Non pensava, nel palazzo tutti erano giovani. Ha visto un vecchio che stava per morire, decrepito. Poi vide un uomo malato e poi vide un cadavere. E così Buddha vide la realtà. Più semplicemente vide la condizione umana nella sua verità. da quel momento Buddha cominciò a farsi delle domande. Non torno più nel palazzo. Senti il bisogno di rispondere fino a quando ebbe l'illuminazione e cominciò la sua vita di monaco, la sua vita di maestro, la vita del Buddha all'illuminato, grande insegnamento, per le genti dell'Oriente. Ecco, a me pare che la nostra società abbia un po' la stessa preoccupazione del padre di Buddha. Si sforzi di escogitare vie per impedire la visione del male. Anche noi, più o meno consapevolmente, rimuoviamo il male in molti modi. Stiamo il più possibile lontani dai morti e dall'evento della morte. Stiamo lontani da quelli che soffrono. Al massimo aiutiamo i sofferenti e ci esercitiamo in quella che io chiamo ormai la carità presbite. Questo amore per quelli che stanno lontano, pur di non vederli, poi li amiamo tutti. la cui forma è in voga permettetemi senza colpevolizzare nessuno, ma è significativa e l'invio di qualche euro attraverso un SMS. Ci sentiamo la coscienza a posto, il nostro amore presbite fa arrivare un aiuto, ma se dovessimo solo invece di quell'aiuto dare la nostra presenza a quelli che aiutiamo o accoglierli nella nostra casa, non so se ci senteremmo altrettanto buoni e caritatevoli. La realtà resta e per chi aderisce alla realtà il male è presente e prima o poi è operante nella nostra vita. Basta poco per riconoscerlo. la malattia pensate alla malattia che ci coglie nel corpo ci coglie nella mente e la malattia è sempre un anticipo della morte non ci si ammala per guarire ci si ammala per morire poi lottiamo e qualche volta riusciamo a vincere temporaneamente la malattia ma questa è la prima esperienza di male che facciamo tutti ma poi pensate alla sofferenza quella causata dagli altri quando ci abbandonano quando ci tradiscono quando esercitano inimicizia nei nostri confronti quando addirittura arrivano alla violenza anche questa è un'esperienza del male e poi pensate alla sofferenza causata dalla natura pensate in questo momento la popolazione di Genova è la natura che si scatena in questi giorni in Liguria qualche mese fa vi ricordate in Giappone con quello scoppio dovuto a un maremoto ma la natura provoca il male nessuna illusione la natura non è buona qualche volta poi noi aiutiamo la natura ad essere meno buona però la natura col terremoto col maremoto con le epidemie insomma si manifesta capace di provocare il male di far regnare il male la sofferenza pensate alla sofferenza che poi causiamo noi perché anche noi facciamo il male agli altri e ne abbiamo tutta la responsabilità ma soprattutto va precisato una non trascurabile dimensione il male di cui siamo soggetti il male che commettiamo con azioni parole e omissioni è un male che è frutto del nostro agire qualche volta non ne siamo consapevoli molte volte lo facciamo senza magari misurarne tutte le conseguenze però noi abbiamo una soggettività capace di causare il male una contraddizione alla vita arriviamo a uccidere una contraddizione alla fraternità ne diamo l'altro una contraddizione al cammino di umanizzazione lasciamo crescere la barbarie facciamo azioni disumanizzanti questo è il male di cui facciamo esperienza nella nostra vita il male per il quale noi soffriamo faticando a vivere e permettetemi di dire proprio per questo male facciamo anche fatica a trovare senso alla nostra vita va detto con chiarezza tra le creature solo l'uomo ha la coscienza del male in tutte le sue dimensioni gli animali soffrono ma non hanno coscienza del male e del male che possono fare né eventualmente del male che ricevono hanno un istinto per la vita un istinto grazie al quale pensano alla propria sopravvivenza fino a esercitare la violenza oppure sono oggetto di violenza da parte degli uomini o da parte di altri animali noi invece noi uomini sappiamo discernere il male e grazie al fatto che sappiamo discernere il male noi sappiamo discernere il bene direi che è proprio dell'uomo nelle sue profondità quello che dicevano i grandi teologi del medioevo l'essere capax boni capax male l'uomo è capace di conoscere di fare il male è capace di conoscere di fare il bene unica creatura in tutto l'universo noi ci possiamo fare allora la domanda insieme al salmo 8 che cos'è l'uomo e voi che conoscete un po' la Bibbia sapete che la risposta del salmo 8 è poco meno di un dio ma questa domanda viene ripetuta nel salmo 144 e di nuovo si dice che cos'è l'uomo ma la risposta al 144 è un mortale è uno con una vita che va verso la morte ecco le due risposte all'interno del salterio sono le due risposte che dà la Bibbia da un lato noi ci meravigliamo dell'uomo così grande poco meno di un dio capace di fare la storia capace di operare il bene capace di essere un creatore di bellezza l'uomo effettivamente è qualcosa di straordinario ma non tanto eventualmente per una visione dell'uomo che domina sull'universo ma io penso soltanto all'uomo e alle storie d'amore di cui noi siamo capaci pensate voi nella vostra vita che cosa c'è più straordinario delle storie d'amore che avete vissuto questa è la grandezza di noi uomini noi amiamo sappiamo mettere nella storia nella vita l'amore sappiamo fare dell'amore qualcosa che caratterizza l'opera d'arte della nostra vita ma nello stesso tempo questo uomo così grande appare anche come un uomo che va verso la morte che è attratto dalla morte vorrei dire che è sedotto dalla morte e che di conseguenza in questa seduzione è anche capace di operare la morte questa è l'innegabile esperienza del male da cui vorremmo essere liberati e noi possiamo fare un passo ulteriore e chiederci il male è leggibile solo nelle proprie manifestazioni oppure a un soggetto è un'azione di qualcuno questo è un problema la domanda la possiamo esprimere in termini tecnici come faceva la filosofia in latino un de malus da dove il male anche perché noi uomini vi rimando di nuovo alla vostra esperienza quando facciamo il male noi non ci sentiamo pienamente soggetti del male che facciamo è raro significativamente noi ci pentiamo a volte del male fatto e qualche volta l'azione del maligna che esce da noi ci sembra molto più grande della coscienza che noi avevamo ma come ho fatto compiere un'azione simile e non ci basta dire ma è stata l'ira è stata l'impeto è stata una forza dentro di me più forte di me è stata la contingenza è vero è vero io a volte ho ascoltato dei carcerati finiti in carcere giovani soprattutto ragazzi che in una sera avevano fatto una lite fino a usare il coltello e si rendevano conto che eventualmente la violenza operata andava ben oltre a quella lite che loro volevano fare anche se magari c'era un po' di alcol effettivamente noi sentiamo che l'uomo non può essere identificato col male che fa anche questo ci distingue da tutti gli esseri viventi gli animali noi non riusciamo a dire che l'uomo è ridotto è riducibile al male che fa pensateci bene noi possiamo detestare il male e condannarlo ma chi l'ha compiuto in realtà non è identificabile col male che ha fatto questo noi uomini lo sentiamo anzi oserei dire che è stato il cammino del pensiero il cammino della nostra civiltà non identificare il male con chi lo compie ecco perché noi abbiamo elaborato una filosofia e poi questo ha avuto una ricaduta nel diritto ha ricaduta nelle regole che ci si è andati per vivere la polis per cui eventualmente uno che ha fatto il male gli impediamo di fare il male ma speriamo poi che ci sia una rieducazione che possa ritornare alla società che possa riprendere la soggettività possa di nuovo far parte del tessuto della nostra società non gli diamo più la pena di morte come un tempo proprio perché sappiamo che l'uomo è più grande del male che compie ma allora ancora di più la domanda da dove il male da dove il male ci sono stati tanti tentativi certamente in occidente noi siamo soprattutto debitori a quello che è il grande codice la Bibbia e se volete alla tradizione ebraica e poi cristiana che sono dei tentativi di dire da dove viene il male ma se noi percorriamo questa strada alla fin fine siamo frustrati perché da dove il male all'interno della scrittura si dice che il male ha come un soggetto ma notate è un soggetto che viene chiamato con le azioni che compie potremmo dire è contrassegnato da un participio presente colui che ostacola e allora in ebraico satan satana colui che divide di conseguenza in greco dia bolos divide oppure colui che ha una forza daimon demonio oppure colui che mentisce colui che omicida ecco se voi cercate nella bibbia antico e nuovo testamento non mi interessa qui questa sera con voi fare un'esegesi precisa dei testi ma in realtà si dice che nel mondo opera un soggetto la cui azione è divisione violenza omicidio opposizione forza che questa forza ha un soggetto chiamato chiamato da questi nomi questa forza opera in questo mondo e opera il male fino addirittura a ricevere un nome il maligno colui che fa il male poneros d'altronde d'altronde quando dite il padre nostro significativamente voi lo sapete l'ultima invocazione ma liberaci dal male attenzione se fossimo veramente fedeli al testo greco noi dovremmo in realtà dire liberaci dal maligno ma siccome puoi cambiare le formule è un'appurazione difficile e in Italia soprattutto sono tutti così conservatori che se si cambia qualcosa gridano lo scandalo allora si deve ricorrere al sotterfugio ultimo che nell'ultima versione della Bibbia per essere fedeli al testo hanno finito per dire lasciamo male ma mettiamo M con la M maiuscola così è il maligno chi vuol capire capisca questo è significativo è una forza di cui noi facciamo l'esperienza a questo proposito spero di essere preciso ma poi nel confronto con voi ben disposto eventualmente a ritornare sul tema la presenza del male non è qualcosa in cui noi dobbiamo credere eventualmente i cristiani credono in Dio credono in Gesù Cristo nel credo significativamente non c'è scritto io credo nel male io credo nel demonio ma semplicemente per una ragione perché del male facciamo esperienza nessuno può dire che non fa esperienza del male non c'è bisogno di credere invece in Dio che non abbiamo mai visto dobbiamo aderire credendo e poi perché all'interno direi della tradizione autentica cristiana non ci si interessa molto di diavolo e diavolerie quella è una pericolosa perversione di chi fa troppa attenzione eventualmente e vuole indagare su una materia che resta molto molto enigmatica perché la realtà è che comunque noi facciamo l'esperienza di una forza che ci trascina di una forza che ci seduce ma resta l'enigma da dove il male San Paolo fa una confessione estremamente chiara non il bene che voglio fare io faccio ma il male che non voglio fare io faccio la possiamo fare tutti noi perché il male noi l'abbiamo fatto lo facciamo chi pensa di non averlo fatto è un uomo cieco è una donna cieca che non hanno lo sguardo su se stessi ma noi nella vita compiamo il male basta che noi guardiamo una persona con un sentimento di odio basta che noi pensiamo a un altro preferendo dire prefererei mai averlo visto più male di così è negarlo certo non tutti arrivano all'omicidio di eventualmente uccidere fisicamente l'altro ma quanti omicidi consumiamo nel cuore quante violenze noi consumiamo anche con la parola con la lingua pensate quante volte con la parola noi uccidiamo un altro o insegniamo su un altro un'altra e il male il male è quello e poi il male di quando non sappiamo corrispondere all'amore quando siamo a un certo punto filautici pieni d'amore per noi stessi e finiamo per vivere senza gli altri e contro gli altri la banalità del male è così noi in monaci siamo molto abituati non siamo più bravi degli altri sapete per la carità il titolo di un mio libro su noi in monaci si intitola non siamo migliore ho messo le mani avanti ma è vero che abbiamo tanto tempo per guardare bene quel che facciamo la nostra vita di solitudine ci permette tanto tempo in solitudine per pensare e vediamo sovente la banalità del male dove gli altri non la vedono ma noi siamo cattivi vi faccio un esempio così capite bene noi in monaci mangiamo insieme a tavola a mezzogiorno il terzo piatto è la frutta passa il cestino con le mele state tranquilli che la mela più brutta resta all'ultimo se ce n'è una che ha un po' di 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 marciume o non è bella lucida arriva all'ultimo e siccome sono contate allora arriva lì se ce n'è una in più resta lì e la mangerà l'altro dopo ma questo è per dirvi perché in noi il male coincide con la pulsione di vita so bene che vi sto dicendo delle cose anche gravi ma in noi uomini la pulsione di vita l'istinto a vivere ci porta a vivere senza gli altri e qualche volta contro gli altri l'animale che è in noi ci chiede questo la differenza è che noi uomini abbiamo la consapevolezza che facendo così facciamo male e lottiamo contro questo fare il male però per gli uomini non c'è nessun stato di innocenza a me rincresce sapete tante volte quando la stupidità parla dell'innocenza dei bambini io capisco che è una forma poetica per persone che vogliono scandalizzarsi di più ma i bambini innocenti avete mai visto due gemelli che allattano sul seno della madre come uno riesce a dare un pugno all'altro e dire succhio tutto io e ci hanno sei mesi perché è già radicata in noi questa volontà di sopravvivere fino a dare il pugno all'altro gemello no la tetta è tutta per me il latte è mio la collina è mia sta in là i gemelli guardateli sono una gran scuola per capire come non siamo innocenti fin dal seno di nostra madre questo è il male di cui noi dovremmo avere più coscienza e l'umanizzazione il cammino di umanizzazione che cos'è se non questa continua lotta verso il male perché l'uomo sia più uomo noi in realtà nasciamo con una forma animale che predomina in noi abbiamo istinti abbiamo pulsioni abbiamo desideri caotici e quella che noi chiamiamo crescita psicologica affettiva umana quella che noi chiamiamo umanizzazione è un cammino in cui discernere le forze negative che ci sono in noi la violenza la pretesa la filautia l'egoismo e cercare poi invece con la razionalizzazione di queste forze di arrivare ad essere più umani è così permettetemi di dirvi addirittura nella cosa che forse per noi uomini diventa la più decisiva l'amore e di conseguenza nell'atto con cui l'amore viene celebrato che è la sessualità voi sapete che noi portiamo dentro di noi una carica di male senza fine noi uomini siamo così anche qui gli animali nascono dal seno della madre una volta espulso se la cavano ci vuol poco a cavarsela presto raggiungono l'età feconda si uniscono fanno i figli il mondo va avanti la specie va avanti per loro noi no noi nasciamo ci vogliono 12 13 anni prima che arriviamo all'età feconda e poi a 12 13 anni voi sapete non saremmo neanche capaci noi di celebrare l'eventuale amore ammesso che ne siamo soggetti attraverso la sessualità perché abbiamo forze in noi di violenza tanto vero che sovente l'amore consumato quando non c'è ancora un'umanizzazione lo chiamiamo stupro lo chiamiamo violenza ci vogliono ben ancora anni prima che uno da 12 13 arrivi a far sì che la sessualità sia un incontro senza violenza sia un incontro senza aggressività sia un incontro senza cosificare l'altro e molte storie drammatiche degli uomini e delle donne e perché hanno subito in un'età di cui non potevano essere soggetti umanizzati forme di violenza sessuale che non hanno potuto sostenere lo sapete tutti eppure quello dentro di noi è davvero la forza che ci dà di proseguire la specie perché se noi non avessimo questa pulsione sessuale che si sveglia nel momento della pubertà con ogni probabilità la specie sarebbe compromessa ma noi abbiamo bisogno di umanizzare la sessualità di far sì che quello che è il bisogno o di un istinto selvaggio sia razionalizzato diventi desiderio è un lungo lavoro che dobbiamo fare tutti e chi ha vissuto una vita di coppia lo sa come non è oserei dire naturale e facile l'incontro all'interno della sessualità perché siamo diversi perché bisogna rispettarsi perché bisogna soprattutto arrivare a una sessualità parlata in cui c'è il rispetto l'un dell'altro vedete anche nella cosa più direi determinante la nostra vita l'incontro con una donna o per le donne l'incontro con un uomo all'interno di una storia d'amore ci sono tante pulsioni di violenza e tutti sappiamo al di là della poetica attuale sulla famiglia che la famiglia è uno dei primi luoghi di violenza sovente e che molta violenza si esercita in famiglia e che un tempo forse se ne esercitava molto di più basti che io pensi a quella che è stata l'esperienza prima degli anni sessanta la violenza che regnava nelle famiglie e soprattutto nelle famiglie di campagna quelli che molti pensano una vita bucolica felice idealizzata le donne tacevano il padre era un padre padrone doveva urlare batteva la moglie batteva i figli non c'erano diritti dei figli né della moglie adesso provate a dare un calcio a vostro figlio e poi se suona telefono azzurro vedrete il giorno dopo le cose sono cambiate però vedete il male ci annida da tutte le parti da dove il male dunque mi rencresce dirlo neanche la tradizione cristiana lo dice qualcuno ha tentato ma significativamente non fa parte della fede cristiana sono state ipotesi di teologi ma che poi neanche risolvono il male qualcuno forse dei più anziani tra di voi perché le giovani generazioni oso dire per fortuna non hanno sentito queste cose ma ci dicevano che insomma Dio è sempre bene è soltanto il bene in Dio non ci può essere il male ma che c'erano degli angeli che a un certo punto si sono ribellati a Dio Dio li ha cacciati e sono diventati i diavoli da quel momento i diavoli ci tentano insomma è una spiegazione che va bene per chi vuole uno schemino ma comunque la chiesa ha mai assolutamente detto che questa è la lettura nel cristianesimo resta l'enigma e Gesù Cristo non l'ha risolto non ci ha detto da dove viene da dove viene il male del male facciamo esperienza possiamo mettere dietro al male questa potenza chiamatela demonio satana chiamatela quel che volete questo la Bibbia lo fa ma da dove viene il demonio la risposta ultima non c'è un demalus resta per tutti un grande enigma un grande enigma e noi cristiani accanto agli altri uomini facciamo fatica sovente a trovare senso proprio di fronte al male quando abbiamo il male che regna la fatica è comune non è che un cristiano in questo ha la risposta pronta o può di conseguenza consolarsi facilmente perché in realtà non ci sono risposte nella Bibbia né le ha date Gesù Cristo il male resta un enigma se noi risolvessimo l'enigma male con le probabilità non dovremmo neanche credere in Dio ma sarebbe un'evidenza Dio quindi noi siamo in questa condizione secondo punto cosa ci dice la Bibbia riguardo al male per essere molto chiari la Bibbia voi sapete ha delle prime pagine che sono racconti mitici i quali non ci dicono la preistoria degli uomini questa è una lettura che è stata fatta ma che oggi più nessuno fa e che certamente la Chiesa non ci chiede di fare i primi capitoli sono racconti mitici in cui non si parla delle origini del mondo e degli uomini ma si vuol dire ciò che nel mondo ciò che nell'uomo è davvero originale è qualcosa che è sempre presente in ogni epoca semplifico molto per non farvi discorsi difficili i primi undici capitoli della Bibbia quelli che vanno dalla creazione fino a Babele sono semplicemente dei tentativi attraverso miti attraverso categorie culturali che sono quelle di tremila anni fa a grandi linee di rispondere a delle domande la prima domanda e notate queste domande si accavallano negli undici capitoli ma sono sempre sul tema del male prima domanda importantissima l'esperienza che chi nasce comincia a fare ma perché decodifico semplicemente non voglio usare linguaggi e fare degli archi troppo faticosi da sostenere ma la domanda è perché l'uomo e la donna non riescono ad andare d'accordo con ogni probabilità il bambino che dice ma perché papà e mamma è così difficile per loro vivere d'accordo è la prima domanda seconda domanda ma perché la terra è così difficile da lavorare e per lavorarla bisogna fare tanta fatica terza domanda perché le donne quando partoriscono soffrono così tanto per darla vita quarta domanda che viene fatta ma perché addirittura ci si arriva a uccidere tra fratelli e poi aumenta il male e perché a un certo punto la violenza diventa addirittura qualcosa che ammorba la società e ultima domanda com'è possibile che c'è un progetto totalitario in cui un solo potere vuole avere in mano tutta l'umanità va bene ecco le domande sono molto semplici potremmo considerarle tutte ma credete che siete in grado di leggere e di vederle cerchiamo dalla prima quella che voi tutti conoscete si dice che l'umanità l'uomo e la donna sono all'interno di un grande parco un bellissimo parco in cui ci sono migliaia e migliaia di alberi da frutto pensate potremmo dire che erano anche forse lo capite meglio in un grande supermercato di frutta in cui c'era un mandarino un ananas una banana un grappolo d'uva pensate le migliaia di frutti della terra su una bancarella è la stessa cosa forse è più chiaro come ve lo rendo io perché i termini ebraici albero noi pensiamo subito un albero con tante mele in realtà si dice che c'era un albero e che a un certo punto l'uomo e la donna rappresentanti la polarità dell'umanità c'è un albero c'è un albero allora il vero problema qual è? quell'albero mi dice un limite perché se c'è un albero e siamo in due o l'albero lo condividiamo o altrimenti è un limite se lo mangio io sono un limite per la donna se lo mangia la donna è un limite per me semplicemente il limite decodifichiamo Dio dice attenzione voi potete mangiare di tutti gli alberi del giardino tutti migliaia migliaia milioni di uno no non è un giochetto pensate che davvero Dio diceva a te adesso provate e poi no uno il limite perché se erano in due c'è il limite dell'altro e il limite se io sono qui e la signora Maroni è lì c'è poco da fare lei mi limita il banco non è tutto mio io sono un limite per lei perché il banco non è tutto suo ma certo quel testo è un testo in cui voi donne non non valete molto siamo un tempo di patriarcato quindi ce la sepiglio un po' con voi siamo noi uomini che abbiamo scritto la scrittura si dice che la donna cominciò a guardare quell'albero notate non dice il frutto vide che era buono da mangiare appetitoso per gli occhi e poi che poteva dare forza potenza potere e allora la donna la piglia e lo mangia cioè vedete il problema di quel capitolo è un problema del male da dove nasce il male non ci viene detto ma ci viene detto che noi siamo sedotti da qualcosa che lo vogliamo per noi senza nessun limite se volete quel capitolo io lo intitolerei decodificando per oggi tutto è subito è la logica del tutto è subito io voglio tutto l'albero è subito per me e gli altri ecco vedete da quel momento si dice che l'uomo e la donna hanno cominciato a incolparsi a vicenda allora l'uomo comincia a dire no no è la donna guarda che ha mangiato il frutto la donna dice no è il serpente qualcosa che si è insinuato in me e mi ha fatto incantare dall'albero ma il male è commesso e subito dopo noi vediamo l'uomo e la donna con una guerra noi dobbiamo leggere bene quando la voce di Dio dice tu ormai donna avrai sempre il desiderio dell'uomo ma lui ti dominerà se fosse stato scritto in un momento di matriarcato si sarebbe detto tu uomo sarai attratto dalla donna e la donna ti calpesterà ma nel patriarcato è potuto solo venire fuori un testo in cui la donna è dominata ecco allora cosa risponde la domanda e poi il male più grande si dice che due fratelli uno pastore l'altro agricoltore ed era il dramma vissuto e il dramma vissuto tremila anni fa quando c'è stato un cambiamento nel mondo in cui i pastori hanno cominciato a fare le città a diventare sedentari a coltivare la terra c'è una nuova classe i pastori gli agricoltori e la nuova classe scalza la vecchia allora Caino agricoltore uccide Abele e Pastore ma erano due fratelli e la violenza fino all'assassinio e poi significativamente Babele dove il potere è totalitario e non a caso voi ritrovato alla fine della Bibbia nell'Apocalisse questi capitoli che evocava prima la dottoressa Maroni che io vi invito ad andare a leggere il capitolo 12 e 13 il capitolo delle due bestie in cui questo visionario dice ho visto una bestia che veniva dal mare da ovest certamente leggeva l'impero romano una bestia che uccide i giusti che ebra del sangue dei giusti che crea vittime sulla terra e poi ho visto un'altra bestia che veniva dalla terra cioè dalla zona dell'attuale Turchia la quale è una bestia a servizio della prima e Giovanni dice è la propaganda di cui la prima non può fare a meno quindi questa bestia chiede agli uomini di innalzare una statua la prima bestia che effetto tutte le volte che vedo queste statue l'ultima di Gheddafi l'avete vista sembra ormai che siamo abituati una volta non le vedevano ma già ai tempi dei greci dei romani avveniva ma in cui ecco la prima bestia a cui si sono fatte statue poi in realtà ma la propaganda seduce gli uomini la gente vi partecipa si dice in quel capitolo che addirittura la gente dice ma vedete la bestia non possiamo mica fare senza di lei perché è così brava ogni tanto sembra che sia cacciata sembra che perda si dice è finita è finita è finita gli si fa una ferita dopo tre ore la ferita si rimargina e allora la gente dice vedi che intanto continua a vincere questa bestia continua a reggere lei leggeteli guardate e vedrete che non avrete bisogno di fare attualizzazione ma è importante il potere totalitario è quello il gran capo il fuhrer il timoniere noi nel secolo scorso la mia generazione li ha visti tutti ancora nella vita dal dux al grande soviet al gran timoniere li abbiamo visti è il potere totalitario che schiaccia la cui violenza crea vittime senza fine ecco il male ecco il male ecco io ho cercato di declinarvelo semplicemente dal livello più personale quotidiano il male che ci coglie nella nostra vita al male quando prende la dimensione politica societaria del potere totalitario ma da dove viene resta un enigma ma cosa allora noi possiamo dire del male della mia conclusione ma certamente la più decisiva innanzitutto del male noi abbiamo una certa responsabilità è vero che il male c'è nella natura è vero che il male c'è all'interno della nostra specie perché noi siamo degli animali è vero che il male sta all'interno delle nostre vite e che noi non siamo pienamente responsabili del male che facciamo ma una buona responsabilità ce l'abbiamo ci sono due errori dire nessuno è responsabile del male un uomo semplicemente fa il male ma senza responsabilità ultimamente voi sapete il tentativo delle neuroscienze che dicono ma se anche uno uccide ma è per problemi di processi chimici nel cervello che uno piglia l'aggressività non tutte le neuroscienze ma molti dicono c'è un tale determinismo in noi che uno che fa il male e perché no e l'altro rischio è dire ma solo è responsabilità di ciascuno di noi non è vero il male ha una responsabilità sempre collettiva questa è la prima cosa vi do un esempio semplice di cui ho scritto nell'ogni cosa la sua stagione ma che è molto importante io penso sovente a quando ero piccolo eravamo quattro ragazzi all'interno di un paese di contadini di settecento persone nel Monferrato e il più bravo e il più intelligente di noi era il figlio del sacrestano una famiglia di nove figli un sacrestano pigliava nulla gli davano ogni tanto dei resti degli aiuti americani che i parroci distribuivano nel dopoguerra poveri ricordo la madre che doveva tutte le sere fare latte e pane o latte e risina sapete quella risina che si dava anche alle galline in cui c'erano i sassolini dentro ecco ogni tanto mi invitava a casa sua perché tirassimo via i sassolini e non mangiassero i sassolini e questo era un ragazzo però intelligente bravo certo non ha potuto né studiare nulla un giorno mi dicono che aveva compiuto una rapina mano armata e era scappato un morto e che era nel carcere d'Alessandro sono andato a trovarlo ci siamo visti più volte adesso lui è morto ma io tante volte mi dico perché lui ha fatto questa fine e tu no forse mi dico tu sei più bravo di lui no ma attenzione il mio discorso non è di umiltà è un discorso di verità io certamente in buona parte sono stato più fortunato di lui sono cresciuto con persone attorno in cui potevo mettere fiducia e quando sono arrivato in età matura ho sempre trovato persone che hanno messo fiducia in me e allora è facile non arrivare a delinquere non che io non commetta del male anch'io ma forse a quel punto lì è facile ho avuto una vita facile contraddizioni le ho avuto come gli altri posso dire di aver perso la madre otto anni di aver avuto una vita di molta povertà ma nella vita ho sempre trovato persone in cui metterla fiducia e da quando io mi ricordo altri hanno messo la fiducia in me fino al fatto che mi hanno seguito in questa follia della comunità che ho iniziato è facile non arrivare a delinquere può darsi che ci arrivi ancora però insomma è facile ma quando uno ha una vita in cui non ha persone in cui metterla fiducia e in cui nessuno ha avuto fiducia in lui certo ci avrà una responsabilità ma io non mi sento migliore di lui e quanti nelle vostre famiglie che magari sono arrivati o delinquere o sono arrivati a comportamenti che voi giudicate cattivi ecco interroghiamoci hanno avuto gente che aveva fiducia in loro hanno potuto mettere fiducia in qualcuno vedete il male dove alberga certo poi c'è sempre una responsabilità personale ma non diciamo che è tutta responsabilità personale chi ha una vita contraddetta fa fatica a vivere fa fatica a vivere non tutti facciamo la stessa fatica a vivere questo ce lo dobbiamo dire per cui molti sono soggetti del male hanno una responsabilità ma la giudicherà Dio noi non possiamo pesarla persone che soffrono pensate solo quelli che sono in una condizione di miseria tutta la vita e che vedono gli altri che stan bene e non hanno mai avuto la possibilità di uscire dalla miseria in cui si trovano ma non per cattiva volontà magari perché sono nati handicappati il dolore io lo dico sempre non è mica vero che fa bene un certo cristianesimo ha detto molte sciocchezze su questo chiedendo rassegnazione o dicendo che il dolore purifica sono stupidaggini il dolore sovente abbrutisce il dolore fa diventare sovente più egoisti avete mai visto in casa un padre uno zio un nonno che ha lictus dopo lictus è nervoso non è più come prima ha pretese diventa più difficile vivere con lui le persone che hanno il parkinson sovente si trasformano in una vera tirannia prima erano dolci il male non è vero che fa bene sovente fa male e per resistere al male ci vogliono tante energie umane tante energie per combattere col male perché l'unica maniera di combattere con il male è dire io anche in una situazione di male di sofferenza di morte voglio continuare ad amare e voglio continuare ad accettare di essere amato e invece noi nel male alcune volte non accettiamo neanche più di essere amati da quelli che ci stanno vicini non è facile non seguiamo degli schemi ideologici guardiamo l'uomo nella sua realtà io dico sempre guai maledetti cristianamente quelli che parlano di poveri di stranieri di emarginati di handicappati guai a loro perché dovrebbero esistere soltanto degli uomini non delle categorie messe nei cassetti dovrebbero esistere un uomo una donna che io incontro e che conoscendolo scopro qual è il suo bisogno alcune volte sarà l'handicap alcune volte sarà una depressione alcune volte sarà un vizio alcune volte sarà una malattia alcune volte sarà la povertà ma è un uomo o una donna che devo incontrare non una categoria io davvero penso che il vero problema del male è di non fare delle categorie colpite dal male ma di guardare sempre un uomo o una donna e avvicinarci a chi è nel male perché un uomo o una donna non in base al male che ha perché se io mi metto in testa che lui è handicappato e io voglio aiutarlo da handicappato magari non scopro che lui semplicemente lei ha bisogno di uno sguardo d'amicizia e non qualcuno che gli compianga o lo aiuti per l'endica voi sapete la storia straordinaria di quel monaco che faceva tanta carità e il suo padre spirituale che lo conosceva bene ha capito che questo non faceva proprio la carità allora gli ha detto adesso per penitenza tu vai ad Alessandria d'Egitto e per una settimana dalle sei del mattino alle sei di sera per strada chiedi l'elemosina e questo monaco obbediente è andato ad Alessandria teneva il suo cappuccio e chiedeva un pochettino di denaro alla fine è tornato in monastero e la bacca gli ha detto hai capito dice sì ho capito quasi tutte le persone che passavano mi hanno dato una moneta nessuno mi ha guardato negli occhi nessuno mi ha chiesto perché sono sulla strada nessuno mi ha chiesto qual era il mio bisogno nessuno mi ha chiesto che cosa mi fa davvero soffrire noi dobbiamo stare attenti il male è un appello alla carne umana un uomo una donna e allora scopriamo prima di tutto che il male è molto più presente e l'ultima cosa che scopriamo che la conclusione del mio intervento anche se detto breve ma l'ho detto tante volte è che l'unica vittoria contro il male la ottiene l'amore non la ottiene assolutamente l'antidoto preciso a quel male ma l'amore l'amore è l'unica vittoria assicurata sul male quando noi amiamo e sappiamo amare forse anche la persona che soffre può trovare un senso al cammino di lutto di tenebra a volte di morte che fa lo sanno quelli che accompagnando chi va verso la morte non parlano tanto sovente gli tengono una mano e gli stanno vicino dando la loro presenza e semplicemente una mano il male lo si vince con l'amore per quanto è possibile a noi uomini e qui il cristianesimo mi sembra abbia la parola decisiva non ci dice da dove è il male non ci dice perché è il male ma ci dice come combattere il male con un amore intelligente vero e un amore che individui l'altro nella sua carne nella sua verità di persona uomo donna non importa se è straniero se è religioso se è credente se è non credente se è santo se è peccatore se è giusto o delinquente in quel caso lì noi riusciamo a non vedere il male che l'altro ha fatto ma a vedere un uomo altrimenti ogni volta che ci avviciniamo un altro l'immagine del male che lui ha fatto non ci permetterà di amarlo e di avere una vera comunicazione con lui grazie della scolta grazie